È una partita importantissima sia per noi che per loro, però cercheremo di sfruttare i loro punti deboli e cercheremo di fare la partita della vita, perché è un scontro diretto per la salvezza e sono sempre partite per la vita. Ecco, ne abbiamo parlato anche in conferenza, il tuo nome è dato in uscita, ma tu ci chiedi arriva a dire che vuoi rimanere dal ricetto finché indossi la maglia dell'Akregas? Assolutamente, io sono un tesserato dell'Akregas, sono un giocatore dell'Akregas e finché l'Akregas mi dirà Zanini tu devi rimanere, rimarrò. Se l'Akregas verrà da me mi dice Zanini devi andartene, è normale che mi cercherò intorno. Hai avuto delle richieste? Sì, ho avuto parecchie richieste da tantissime squadre, però ho sempre risposto sinceramente se l'Akregas mi vuole tenere rimano all'Akregas.